Paolucci, il documento che riguarda il pronto soccorso degli ospedali abruzzesi di riordino per far fronte al suo raffollamento è stato presentato dalla RASR, azienda sanitaria regionale, in giunta. Qual è il pensiero dell'opposizione del Partito Democratico in particolare? Beh, intanto che arrivano molto tardi, non è ancora pubblicato e quindi non possiamo ancora conoscere e poter valutare con precisione l'atto di programmazione. Quello che possiamo dire è che noi abbiamo oggi una sanità interrotta. I fatti di cronaca dei vari pronti soccorso di questa regione ci dicono che i cittadini sono stati abbandonati. Gli operatori non hanno conosciuto nuove forze, nuove assunzioni, nuovi investimenti e il risultato vero e reale è che tante persone si recano e addirittura restano lì senza assistenza in qualche caso, anche con qualche fatto di cronaca drammatico come il decesso che si è avuto a Pescara e sul quale ci sono delle indagini in corso anche interne, per ore e ore e anche giorni. E' davvero poca cosa quello che hanno programmato in questa sanità interrotta del dopo Covid, questa giunta regionale, Marsiglio e Laveri. Ci sono due ordini di problemi, Paolucci. Il primo la carenza di personale cronica che risale a tanti anni fa e poi probabilmente anche una medicina territoriale che non riesce a fare da filtro. Sì, non ci sono atti di programmazione, non c'è la rete ospedaliera, non c'è il piano sanitario, non c'è la rete territoriale che dovrebbe appunto filtrare questi accessi al pronto soccorso, ovviamente dando risposta di assistenza a quelli che possono evitare di andare al pronto soccorso. Dall'altro lato noi abbiamo concluso il commissariamento, hanno fatto grazie a questo lavoro 1200 assunzioni, però il numero degli operatori presso i pronti soccorsi è addirittura diminuito. E' una vera e propria vergogna che chiama in causa le responsabilità per l'assenza di delibere, di atti, di provvedimenti e di programmazione questa giunta regionale di centrodestra.